Grazie a tutti. Venga qui, venga Silvio! Attenzione, arrivata la Becker, allora recuperiamo il terzo posto, Charlotte Becker. A premere la terza classificata, Carlo Delotti, titolare del Polgar. Guarda dove si mette. Terza classificata, l'applauso per Charlotte Becker, l'equipo di Lule Berber. Cristina Becker per il terzo posto. Viene il primo, la terza classificata. Viene il primo, la terza classificata, Cristina Becker. L'equipo di Lule Berber. Bersicchia Lunga, per la seconda Giulia Martistova, Pompilio Crivellone, sindaco e primo cittadino di Tornarevo, premia la vincitrice di oggi, primo cantegno, città di Tornarevo, prima classificata Andrea Graus. Passa a questa e mi dai la cassetta e scappò via, appena hai il terzetto, ecco la coppa sul terzetto, Giulia, buon perfetto. Ecco, buon applauso, la terza e un grande senso di oggi. Prefetto! Rainmanic, saporita! Massessore! Vai le tre, play. il mio assessore provinciale allo sport e alle politiche giovanili si appresta a premiare con il trofeo messo a disposizione dalla provincia di Milano la squadra della vincitrice la vincitrice è Andrea Graus la squadra è in schiena solo le tre dole sui fiori sui fiori ok ok perfetto va che bene l'assessore provinciale allo sport e alle politiche giovanili si appresta a premiare la squadra della vincitrice la vincitrice è l'Austria Andrea Graus la squadra è il team Pigla un attimo un attimo Irma 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 il team Pigla consegna consegna e consegni la coppia alla squadra l'atleta che oggi ha vinto il primo Gran Premio Città di Tornaredo grande successo organizzativo oggi e ottima partecipazione per questa prima edizione del Gran Premio Città di Tornaredo è il primo Gran Premio Città di Tornaredo e la seconda è classificata Junia Martisola la terza classificata Cristina e Becker vediamo il protocollo di cremezione per questo primo Gran Premio Città di Tornaredo ha vinto Andrea Graus seconda classificata Junia Martisola che ha un seri da tuta Ormu terza classificata Cristina e Becker con il primo Gran Premio Città di Tornaredo è il primo Gran Premio Città di Tornaredo